Ci sono stati dei problemi, in primo tempi molto stretti per noi perché avevamo il referendum sulle pensioni che ci ha impegnato fino a una settimana prima dell'avvio della campagna vera e propria e anche la questione che le organizzazioni sindacali confederali non erano sulla stessa posizione su tutti e quattro i quesiti che riguardavano il sindacato. Io credo che ci sia stata una grande vittoria del Paese, una grande vittoria di democrazia, sono stati sconfitti tutti quei soloni che pretendevano che i cittadini non fossero capaci di discernere se votare sì o no su certi quesiti piuttosto che altri. Quindi è una vittoria innanzitutto dell'istituto del referendum in quanto tale e proprio forse di questa vittoria noi rilanciamo e riproponiamo altri 18 referendum sui quali stiamo già raccogliendo le firme e sui quali invitiamo i cittadini a voler aiutarci con la loro firma e con il loro finanziamento sia nelle segreterie comunali dove possono andare a firmare in qualsiasi momento sia se ci incontrano per strada fermandosi, firmando e possibilmente aiutandoci con un contributo altrimenti telefonando a questo numero di Roma potranno versare il loro contributo. Il processo accontenta e ci soddisfa. Di sicuro non posso dire che per noi è stata una sorpresa avendo fatto una ricerca alcuni mesi fa nella quale avevamo rilevato già che i consumatori erano indirizzati su questa strada. Certo che questo successo, questa maturità dimostrata dai consumatori non è che chiude assolutamente le porte a delle soluzioni diverse che possano dare al consumatore una diversa soluzione dell'orario dei negozi e in maniera da soddisfare le esigenze di tutte le fasce della popolazione. La valutazione è che sicuramente si tratta di una sconfitta evidentemente quindi dobbiamo prendere atto di questa cosa in primo luogo. In secondo luogo però sappiamo che ci sono alcuni passi che non si possono più fare indietro. Abbiamo una sentenza della Corte Costituzionale abbiamo degli impegni da parte più o meno, mi sembra, in maniera trasversale di tutte le forze politiche a comunque predisporre un testo nomativo di riorganizzazione di tutto l'assetto informativo attendiamo poi di vedere i politici cosa intenderanno fare a questo punto di vista non possiamo solo agire come associazionismo come società civile e così ma parliamo alla nostra funzione. Io credo che la vittoria dei no sui due referendum sul commercio sia una vittoria dell'intelligenza e della maturità dei cittadini i sostenitori del sì avevano preventivato una vittoria del sì in questi due referendum pensando che il cittadino non avesse in qualche modo privilegiato il suo tornaconto egoistico cioè quello di avere ad esempio i negozi sempre aperti rispetto invece a una riflessione che evidentemente il cittadino ha fatto e che dimostra la sua maturità e che ha compreso che non si possono avere i negozi sempre aperti senza che questo non costi in termini economici, sociali ed anche sanitari a chi deve operare all'interno degli esercizi commerciali.